Sono Rocco Braz nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio Noi siamo bravi ragazzi Ma saras Vabbè Ma un giro ce lo fanno fare No, no, mi ha salutato ma non credo di conoscerlo Ah, vediamo Vai vai Can I go with you? One ride I'm the most famous youtuber in Italy Arrivo maestro Aspetta, vedo se Hi my friend, nice to meet you Yes, yes, I'm so famous in Italy You know Twitch? Twitch? It's the Amazon platform in Italy I'm streaming the first one Ok, come, come How can... You just have to, yeah, like that Wait Push it, yeah, yeah Where are you from, my friend? London Oh, London Originally I'm Kuwaiti Ah, ok, ok Yeah, yeah What's this YouTube channel? Let me have a look You can, you can follow Grazie Alessandro Sono tre H-O Grazie caro H-O M-Y M-Y And the first M-A-A-T-O-L Yes It's me I'm now live With 3,000 people Watching us No, excuse me You've got 3,000 people Yes No way It's like Not very much Because it's summer So the people It's me This is one This one is me On YouTube I'm not so famous But on Twitch I'm One of the best Are you on Instagram as well? Yes Yes You have Instagram? Yeah You tag me? Yes I can My Instagram is dead right now Really? Yeah, look I'll show you my Instagram Ragazzi Seguitelo su Instagram Così facciamo vedere La forza che Can my guys follow you On Instagram? Yeah, yeah, no problem Can What's your spell? Wait There you go Ragazzi Seguitelo Al Aspetta Can you Yeah, A-L No, no Wait, wait Wait, wait Un second It's Al dot Hussein 1 Ok Yeah It's Al dot Ok You're gonna edit all the video And everything No Yes, not right now Because I'm live So tomorrow You will see I will DM you You will see The highlights Of the Of the videos Look, 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 look Refresh, refresh What's going on? Refresh Refresh Yes, yes Is that how famous you are? Yes You can You can Look at My last picture Go on Search Search H Yes Yes, H Your Instagram H-O H-O M Y Y-S Y-S No, no, no Wait, wait Sorry The first one Look at My community At This Look at The comments They are crazy Are you serious? Yes, yes I'm Very serious Wow Yes, I'm Sorry for the weird You got 360 Yes, because I don't like Like doing like The influencer I'm just Wow, bro What's going on With my Insta Right now Yes, yes You You push up Your numbers Bro And it's Like Normal You wanna drive, baby I have my friends There So We can Go Show me a driver And I don't It won't Be so Very selfish But We can You can Dehand me And if you are Here in Milano We can Like plan Something Okay, I'm here Don't worry I'm here Let me put some music One way Yes, yes Put whatever You want I Are you gonna be recording? Yes, yes I'm gonna I'm like Not a YouTuber But I Record like this So it's like Real Live Video And Every day Yes, yes Maestro Se mi stai guardando Arrivo tra poco Do you know A little bit Of Italian? No Don't worry You can speak Italian if you want to Yeah I will speak Italian A little bit To my community But I Think they Understand English You're gonna Make me famous, right? Yes Yes We've got the Go Lambo, baby We're in Milano I'm with my boy Homie Yes Yeah No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Okay Okay Yes, yes I'm I'm The first I'm not used to Go You don't use to speed You have your belt on, right? Yes, yes No, no, no He Uh How do you What did he say? What did he say? He said Ah That's my car, bro Ah, tu hai occhi a te, bro, ogni volta c'è occhi a te, è bello! Ma hai pimpato il tuo caro in U.K.? Hai saputo KSI? Sì, sì, ho saputo KSI. Ho venuto a Milano per aver guardato, e lo amo! È molto bello, ma è in mezzo dell'Aegus, quindi... Sì, sì, ma in settembre... Banging? Sì, sì, ma... Cosa stiamo fare? Siamo planare qualcosa in settembre. Non so quanto tempo ti spendi... Siamo qui fino a di giugno. Ah, ok, perfetto, perfetto. Si, 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 perfetto. Andrea. Usain. Usain. Ok, ok. Fogliami tutti! Noi, nono, nono, nono... Check, 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 check. Check, check, check your Instagram, bro... I think a lot of followers will appear. We can do this! Go there right there. We can do this! I can go... I want to go with the my friend, because it is alone, ma possiamo fare questo, io sono qui, e io sono qui la prossima settimana, io sono qui, se volete fare qualcosa, io dirò di DM tu, su Instagram Dmd me, what the nerve is happening here, show it one more time, yeah, al.hussein1, seguimi tutti, ho bisogno dei miei amici in Milano, al.hussein1, perfetto, sono il solo al.hussein, il numero uno, come quante, london basti, london town, e ora facciamoci�are in Milano, in una GOLAMBO, no, 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 non, no, 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 no. no 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 stop 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 oh oh how was that bro? how was that bro? I think better than sex bro what ok now I will I will DM you after the stream and and I will DM you brother and let's meet up next week we'll do something we'll make a cool video oh he's my friend what is most important I hope to see I will I will write on your Instagram after after this you make but accept my DM bro ok yeah understand mamma mia it's fast very fast very fast yeah it's very fast very fast very very fast I'm scared follow him guys remember what last time last time your Instagram remember 35 followers now it's going bang Milano Tan baby I was saying I'm here for you I'll DM you I'm off till I'm off till Monday on Monday we can plan all the week we can plan no problem yes yes I'll DM you have a good night brother see you I'll text you in a few hours when I when I stop the stream thank you thank you porco I've seen the live guys in frame the live mamma mia no 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 ero troppo impanicato per ti ho fatto la porta mamma mia sì no ero 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 uno sceicco ah no eh mi so cagato sotto oh ero sceicco avp vabbè però sta qua a final dicembre per cui magari possiamo far qualcosa maestro un napoletano un indieno e un iraniano fa già ridere così grazie bro raga se volete qualche elenco di bottane su twitch sono bianco ma in che senso scusami io pensavo che si schiantasse ma io non sono abituato alla velocità ma quante secondi in centro? no 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 stai male genna tu stai male e dici ok vedo il muro avvicinarsi troppo velocemente è perché c'è la modifica l'indiano pick up che è cotto nel stipendio quanto? 2.30 davvero? e poi c'è la targa lui ha sull'80 la targa più bassa è la ma che no? se l'è fatta spedire dagli emirati a londra e poi da londra a qua lui non la usa non è che viaggia con la macchina ma quindi è sua è sua si che è sua e più bassa è la targa più importante è nello stato dov'è e lui ha la targa 80 più o meno però aveva tipo 130 followers su instagram no si pochissimi ma no ma guarda che è divertente avere i followers seguitelo ragazzi così ci facciamo una bella figura e bel content no aveva la targa 35 30 aveva 30 ma dopo ti passo la foto? lo tagghi nella storia? no? si si è così grazie bello grazie car si ormai per i due mesi vede come è venuto la foto? vai vai 1 plus eh ragazzi vedete con i soldi dello streaming eh no il selfie non è venuto ma abbiamo si si sono dubbi ma il monopattino? il monopattino se n'è andato ma dopo che sono andato sulla Lamborghini posso anche proprio deprimermi no 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 tutto quello che ho fatto è inutile perché non avrò mai una Lamborghini d'oro ma come cazzo le ho vinto a farlo? eh gli ho detto che ma a parte che se mi vedi sembro comunque uno youtuber cioè ho tutto questo gli ho detto che ero il più famoso ah di 12 di Italia io dico sempre così 12 Italia si e no e poi gli ho fatto vedere Instagram e i modificati sono andati a spammarli e si è preso si? si 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 ricordiamo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al canale grazie troppo buoni Rocco Brazio è ricchissimo e non si abbona non si sa